Ciao ragazzi, ciao a tutti E benvenuti in un nuovo video Di Wild Rift Allora, questa cosa mi fa un sacco ridere Eeeh Ho scaricato Wild Rift XD Ho scaricato Wild Rift E ho shoppato Zed Perché la mia curiosità era Come cazzo faccio a fare la combo con Zed? Cioè io so farla, no? Ma come minchia si fa? Allora, intanto Questo lo mettiamo qua La mia webcam Un'altra cosa Il problema è Che giocando dal telefono Non si sente il volume Cioè io posso alzarla al massimo il volume Ma probabilmente Aiuto Oh mamma mia Ma probabilmente voi non sentirete una sega Ma io non sono capace Ma come cazzo si fa a giocare così? Allora, io ho un dubbio Se tiro la Q Me l'automira? Ho paura di sì Ma sto giocando Sto giocando Una rank mi sa Allora, vediamo un po' se me l'automira No, vabbè Me l'automira Quindi immagino che anche la combo me l'automiri Ma io ti picchio Vieni qua Wow, mi automira tutto La Q Diene uno skillshot? What? La Q Diene questo gioco E uno skillshot? Sei serio? Non vorrei parlare Io ti ignito Wait Ti voglio ignita Ah No Ma le ho le pozze? No, non le ho le pozze Allora, ho bloccato la W Come si Aspetta, allora vediamo un po' Sì, va bene Più o meno No, io non ci posso andare Ma che ci muoio già, eh Ok Ma io tipo ho forze di Q Cioè Oh mio Dio, la combo Ecco Questo è il momento della verità Il momento della verità Voglio vedere se riesco a fare la combo Lei è ferma come un ceppo di legno No, vabbè No, vabbè Ah Morì No, lo scudo Ma Ma lo scudo di Annie Non dà uno scudo Ma che cazzo Ma lo scudo di Annie Non dà uno scudo Questo sì Ma sei serio? Comunque La combo è automatica Non devi mirare Basta che clicchi E allora non ha senso, rag Cioè Altro che difficile Voglio vedere con la R Ma ragazzi Non l'ho Non l'ho Non sono pazzo Cioè io ho visto lo scudo di Annie Che in teoria dovrebbe essere uno scudo Per la velocità di movimento E che riduce i danni Ma quello era veramente uno scudo? Ma va Ma va Ma è facilissimo Vedi Vedi Ma non vale Ma è uno scudo Ecco perché mi ha inculato prima Cazzo di merda Che qua Ma Z diventa Ma Z provoca in sto gioco Ciao lì sim Ah tra l'altro Ma va Alla prossima combo muore questa? Beh 3 2 Uh se n'è andata Ops E se n'è andata Non vale Ha filato la morte E flashare è difficile Oddio c'è la R Vado a cancare Uh Ma non ha senso Torno indietro Ah no Oddio che culo Ma è troppo facile Ma è troppo facile Ma è troppo facile Ma poi quanti soldi ho? Ah posso scegliere gli oggetti? Ah posso sceglierli Oddio Mmm Ah ma non ci sono gli oggetti del Non ci sono Brama sangue Non ci sono gli oggetti Del gioco Cioè preordine Come cazzo fa? Cos'è il preordine? Ce l'ho io mu? No In oro sufficiente Scarpe? Neanche Senti io tiro dritto allora E' strano E' strano perché non ci sono gli oggetti Gli oggetti nuovi Che poi io sto guardando Io sto guardando Il cellulare Ma potrei guardare benissimo anche lo schermo Infatti mi sa Guardo il cellulare solo perché Vai lì Sin Boom Ma è troppo facile scombare la gente Ah giusto i minion Non mi ero scordato Ok Allora chi è questo? Mastery Vieni qua Mastery Appena ulti ti ammazzo Tanto non posso filare nulla Ignite Una Q No niente Posso muare di ignite? No more di ignite Allora andiamo a bot E' la musica che sente bassa Ma non ci posso fare nulla Quello è un blitzcrank C'è qualcuno Oltre a blitzcrank? Che poi Motevo la fot... La... La videocamera bloccata Ha! 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 Triple shuriken! Boom! Quanto sono forte a questo gioco! Mmm Non vedo l'ora di Di gettarmi nel competitivo Di Wild Rift ragazzi No non il drago Crettino Oh cazzo Annie Ehm Ma se faccio così? Ah ok Uh via 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 Non è... Non è scemo il gioco eh Ti punta nella direzione In cui sei Quindi lì mi ha fatto scappare Io pensavo che mi puntasse verso Ma sbaglio? I danni sono gigantemente aumentati Oh cazzo Io Ok Dicevo che io pensavo Che la W me la puntasse Verso i nemici Invece non è così Allora Yomu ce l'abbiamo Scarpe Spada lunga Ah le scarpe Fanno morire Da ridere Guarda cosa fanno le scarpe Cioè io clicco la scarpa E lui va più veloce La Yomu tra l'altro si è attivata da sola Cioè io non ho fatto niente Uh ciao Ash Ti ignito E ti auto attacco E poi una cup E fino al lavoro Et voilà Madonna Tu easy raga Tu easy E' veramente easy E in teoria sto usando uno dei champion più difficili del gioco Cioè sul Quando l'ho shoppato c'era la difficoltà 3 3 stelline Vediamo se riesco Pertà Pertà Mamma mia Mamma mia Super wombo combo Con giucca addirittura Non ho già capito niente Mastery Avevo tappato per sbaglio la bocchetta del volume Sì il mio telefono non ha un volume molto alto eh purtroppo Guarda ti mette anche Cioè ti mette Madonna l'auto aim Ti mette anche l'ombra perfettamente Perfettamente a lato Come 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 un OTPZ Ragazzi anche voi potete essere degli OTPZ No adesso l'altro l'ho messo di merda Anche voi potete essere degli OTPZ con questo facile comodo Vieni qua Vieni qua Vieni qua Fatti bicchiare Fatti bicchiare Vabbè ti metto così Tanto non posso missarti Sono unstoppable Ma ho critato? Ma in che modo ho critato? Vuoi vedere che gli item mi danno Tra l'altro le rune Le rune le build Boh Non so che rune abbio Cioè credo che non puoi Proto cintura? No io metto la lama crepuscolare di Draktar se permetti Tra l'altro Ecco la Yomu si è attivata da sola Mettiamo anche le scarpe Già che qui siamo Tra l'altro Una cosa che Penso mi fa Incazzare È che c'è l'opzione Aspetta che lo ammazzo È morto C'è l'opzione Per mettere la lingua inglese e i test in italiano Cioè non c'è sul cazzo di gioco per pc E c'è qua Ma perché? Ma che ve costa metterla pure nel gioco originale No? Tipo io adoro le voci in inglese Ma mi sta bene anche il gioco in italiano Il messaggio d'Airlanda è stato bloccato in corsia centrale Ma questa dovrebbe essere ranked se non sbaglio Cioè io ho messo Classificata eh Poi non so se Ma perché mi dice di mettere la protocintura? Ma scusami Ma io sono curioso Cioè ma perché? No posso mettermi a P Ma poi dove è scritto la D? No Ma sai vedere che Sta cosa dà statistiche a D E mi dà anche Oh mio D No Zed con la protobel Ma dove sono le statistiche qua poi? Cioè non ci sono Io non le vedo Ling Ling Oh mio Dio Ma il Marfighter è difficile prenderlo Da quello è morto Legendary Uh lo prendo io Ah me l'ha ciulata stavolta Maledetta Che è questo? Morice Morice Ah tra l'altro Non ci sono le torri qua Cioè ci sono le Ci sono le Cioè c'è il Nexus che spara Mi sa che abbiamo vinto raga Beh GG Io direi che sono pronto per il competitivo Eh vittoria Allora Non so da che parte iniziare Né finire Ma va che bello Ma va che belle che sono le animazioni Cioè ma che bello Zed così È tutto fiero proprio Leopardo da Vinci Stefano Ma queste cose sono italiane mi sa Ah no non è Non credo fosse MVP Wow ho preso un MVP Non credo fosse una ranked Perché non mi dà le statistiche ma Eppure io Aspè Io avevo fatto Classificata Ah il MVP Non rispetto a me Probabilmente ancora non ci sono le ranked Raga volevo farvi vedere una cosa Cioè Io ho capito Che questo gioco È stato fatto Per spillare soldi E per battere Mobile Legend Va bene Però Cioè guardate che Cioè guardate che Sì ok il frame È quello che Ma guardate che figata Ma perché Non mettete sul PC Ste cose Ma guardate che roba Cioè ma io mi venderei l'anima Per avere ste cose sul PC Ma Ok Lasciate stare il frame Che è il mio Il mio cellulare Ma La figaggine Capito Cioè la figaggine La figaggine vera Ma poi ce ne sono tantissime Cioè Ma 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 Pure Alistar è figo Capito Pure Alistar Che è una mucca È figa Cioè È bellissimo Cioè sono fatte benissimo Sono bellissime Sono stupende Le animazioni Di presentazione Dei campioni Cioè ci starebbe Sarebbe Starci ore Ore A vederle tutte Non ha Non ha Non ha veramente Senso Anche Questa personalizzazione Chiamo base Due per il gruppo Cioè mi stai dicendo Che io posso No ma sei serio Cioè posso Posso cambiare I recall Ninnole Cos'è Ninnole Ma guarda Quante cose Da Ma quante cose Personalizzabili Che a me Ah beh Che scala Sono le ward Vabbè lei è muoto Ok Volevo farvi vedere Guarda C'era una cosa Che mi aveva Fatto dire Madonna Madonna Dov'è Dovevo cercarvela Ecco Non tanto la Non tanto la KDA Cioè bellissimo Per carità Pure con la musica Ma Cioè di che parliamo Ragazzi Di che stiamo a parlare Di che stiamo a parlare Di cosa stiamo parlando Che poi se non sbaglio Può tipo anche Mettersi in posa Rilassata Ecco Cioè vedi Capite no Cioè Capite il potenziale Che potrebbe essere messo Su pc Ok Capite perché io Mi inalbero Capite perché io Mi inalbero Un pelino Eh Capito Vabbè ragazzi Io volevo solo provare E far vedere un po' Com'è Wild Rift Cioè però Ripeto Posso veramente Diventare un pro player Di sto gioco Non ci vuole niente Basta Basta cliccare così Le combo le fai in automatico GG Vupino Niente ragazzi Questo video lampo Giusto per far vedere Com'era E ci vediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima